Non ci facciamo ricattare, se cade il governo la responsabilità sarà del PDL, così il premier letta da New York dopo l'annuncio ieri dei parlamentari azzurri di dimettersi se verrà formalizzata in Senato la decadenza di Berlusconi, pronti a lasciare anche gli uomini della Lega irritazione dal colle. Governo mobilitato su Telecom si va verso uno scorporo della rete, intanto crescono le polemiche sul fatto che Telefonica acquisirà il controllo della società italiana con un pacchetto azionario inferiore al 20%. Con la normativa vigente, Telefonica non ha obbligo di OPA su Telecom, ha detto il presidente Consob Vegas in audizione al Senato. Arrestati i responsabili dell'omicidio di Massimiliano Spelta e Carolina Ortiz-Paiano e i coniugi uccisi a Milano un anno fa. Si tratta di due italiani, ma sull'identità c'è il massimo riservo. Nell'agguato rimase ferita anche la figlioletta di due anni. Dietro l'esecuzione sembra questioni di droga. Prima udienza del processo d'appello ieri all'Aquila per Salvatore Parolisi, unico imputato per l'omicidio della moglie. Il procuratore generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo. Lunedì forse la sentenza. 350 morti. Si aggrava ancora il bilancio del terremoto di magnitudo 7.7 che ha scosso una vasta area del Belucistan in Pakistan, oltre 440 i feriti. Quasi interamente distrutto il distretto di Awaran, dove vivono 61.000 persone. Nuova apertura dell'Iran alla comunità internazionale sul nucleare. Accordo possibile in tre mesi, non in anni, ha detto il presidente Rouhani in un'intervista al Washington Post. Primo banco di prova alla riunione nelle prossime ore del cosiddetto gruppo dei 5 più 1, al quale parteciperanno anche il capo della diplomazia di Teheran e il segretario di Stato americano Kerry.